Dunque, dico sempre dunque, pensavo di aver concluso con le pubblicazioni relativamente alla vicenda di questi dipendenti da CTV che sono stati licenziati, ma non sono stati licenziati perché si sono licenziati loro, eccetera, eccetera, in quanto ieri, con l'ultimo intervento di ieri, abbiamo detto che sarebbe ora di fare chiarezza e chissà, rivolgendomi direttamente alle persone che sono state oggetto di questo provvedimento, pur comprendendo che vorrebbero stare nell'anonimato, però se vogliamo fare chiarezza siamo a disposizione e avevo pensato di accantonare e chiudere questa partita. Siccome continuano arrivare commenti molto critici nei miei confronti, ci mancherebbe altro, se ritenete criticare criticate pure, però devo dire che da come vengono messi sembra che il sottoscritto voglia denigrare l'attività di personale di CTV, cosa che non è assolutamente vera, tanto è vero che comunque, a parte i commenti pubblici, mi arrivano anche tanti messaggi di persone che lavorano in CTV che mi dicono continuano ad andare avanti, oppure mi spiegano le motivazioni in modo ben diverso che certi amici di CTV hanno espresso in un'altra maniera. Siccome l'ho detto e l'ho ribadito più volte che ho stima dei dipendenti di CTV e del lavoro che fanno, ma non è che lo dico adesso che ho pubblicato quelle cose, lo dicevo anche prima e vorrei ricordare in particolare due interventi che ho fatto in passato, uno in difesa di un comandante della CTV che a chi ho già era stato offeso e praticamente quasi aggredito da una ragazzetta di Perestina e poi da suo papà e l'ho difeso a spaziatratta perché aveva ragione a spaziatratta. In più ho difeso un'altra volta quando un avvocato di Bologna che è un amico, dietro l'amico siamo in contatto quasi tutti i giorni perché una volta Perestina aveva criticato il comandante del Vaporetto che non è la stessa persona, non so neanche chi era, nel primo caso so benissimo chi è, è un amico, nel secondo caso non sapevo neanche chi fosse perché praticamente lui aspettava di andare con la bicicletta a bordo, siccome c'era la coda era andato a fare il suo giro, poi era tornato e ha dovuto aspettare ancora e allora aveva mandato una lettera sul gazzettino in cui diceva delle cose come me sbagliate e io sono intervenuto difendendo il comandante della CTV. Quindi come li difendevo prima e li difendo tuttora per il lavoro importante che fanno, in questa situazione ho ritenuto opportuno dire al pubblico questa notizia che c'è, uno dei due che è stato, dei due o dei tre perché a volte sono due, a volte sono tre, adesso ho saltato fuori che è una donna, che c'è una donna comandante, uno è stato lì, 16 sono licenziati, uno so per certo che sta già lavorando dentro i nari di laguna, qualcuno mi scrive come mai questa disparità di trattamento fra questo e gli altri, non lo so, al momento non mi interessa, vedremo in seguito, quindi ribadisco ancora una volta che chi danneggia la professionalità e l'immagine dei dipendenti da CTV non è certo comparato a Andrea Occhio Giazzura che scrive le notizie, ma chi ha fatto quegli comportamenti che purtroppo vengono recepiti da tanta gente mettendo tutti i personali da CTV nello stesso su piano, cosa che non è assolutamente vera. Il motivo di questo mio ennesimo intervento è proprio per difendere quel personale da CTV che sono bravissime persone, che sono veramente legati al loro lavoro e al servizio e fanno veramente un lavoro facendo proprio gli interessi secondo me dell'azienda ma anche e soprattutto dell'utenza che ha bisogno di essere trasportata tutti i giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.